Non posso che dire che ancora una volta l'ospedale di Siena ha dimostrato nella persona del dottor Giannini, nella persona di queste persone, che sono le persone che come vedete operano nel pronto soccorso e stanno facendo davvero bene, li dobbiamo tutti ringraziare. Dobbiamo ringraziare i dottori che sono qui presenti, il dottor Busino, il dottor Scolletta e dobbiamo ringraziare tutti gli infermieri, tutti i medici, tutti i tecnici del laboratorio e tutto il personale, anche amministrativo, che lavora per noi, perché questa è veramente una grande dimostrazione di prevenzione, che è il primo momento nel quale è necessario tutelare la salute dei cittadini, questo è il nostro dato. Siamo qui per testimoniare noi come semplici cittadini, in questo caso anche se come sindaco in questo caso, che l'ospedale è stato come al solito all'altezza delle aspettative di tutta la città, di tutta la comunità. Io ringrazio il signor sindaco, ovviamente a nome di tutta la collettività, nel senso che, come ha già detto lui, i medici, i infermieri in questo momento di questa area dell'emergenza sono sotto pressione, così come i tecnici, i radiologi, i tecnici di radiologia, i laboratoristi, perché come ho detto anche da alcuni di voi prima, c'è una pressione crescente, ovviamente. Il personale è stato addestrato già da diverse settimane per accogliere eventuali casi sospetti. In questo momento possiamo dire che tutti stanno veramente dando il massimo e daranno ancora di più nel caso in cui eventualmente si verifichi la presenza di un caso. Rispetto a chi evidentemente parlano e abbiamo operato giorno, notte, pensato, studiato questa soluzione, avevamo dietro la storia che insegna come gli ospedali possono essere davvero, in caso di epidemie, ricordiamo la SARS di qualche anno fa, i veri grandi diffusori di malattie virali, come quella che stiamo in questi giorni evidentemente combattendo, purtroppo anche vivendo in molte realtà regionali anche vicino a noi. E da qui è scaturita, devo dire, in particolar modo dal pensiero del direttore sanitario, questa idea di costruire non soltanto percorsi separati, ma separare davvero fisicamente e strutturalmente coloro i quali possono essere sospetti o possono soprattutto poi diventare davvero dei casi deportatori da tutti gli altri cittadini in attesa di un pronto soccorso, da tutti gli altri, quindi difendere gli operatori stessi che come vedete hanno sia barriere fisiche, sia barriere culturali, quindi non so, o ben oltre i dispositivi di protezione individuale, soprattutto la cosa che davvero credo che sia un esempio e un modello, la capacità di un ospedale importante come il nostro, siamo un DEA di secondo livello, siamo un'azienda ospedale universitaria di costruire cultura, di costruire pensiero e di essere un esempio rispetto a tutti gli altri ospedali. Pensate cosa sarebbe accaduto se avessimo vissuto senza questo tipo di pensiero e di progettualità quello che è accaduto in un comune del Milanese dove un ospedale e il suo pronto soccorso sono stati chiusi per una settimana, 15 giorni e quindi una comunità, una popolazione non ha potuto usufruire dei servizi sanitari e essenziali alla loro salute. Questo è il contributo più bello che abbiamo dato. Devo dire con estrema consapevolezza e anche con piacere che questo ha rappresentato, è stato in un primo momento anche mal tradotto, ha rappresentato un carico operativo di pensiero, di lavoro di tutti gli operatori del pronto soccorso. C'è stata una generosità, una disponibilità assoluta in quel momento che si è fatto esclusivamente con gli strumenti contrattuali che avevamo a disposizione a dimostrazione di come un ospedale, i suoi professionisti, i suoi sanitari sono sempre al servizio degli altri e quando questo servizio è necessario e importante come in questo momento ci sono e sono all'altezza di esserci. L'ospedale sta ridisegnando se stesso, questo è un ridisegno di un percorso percorso che poi evidentemente entra nei casi esattamente che ci auguriamo mai, neppure il primo non ci interessa trovare il primo caso, lo posso garantire. Non ci piacerebbe essere di fronte a telecamera, non c'era che abbiamo trovato il primo caso, non che questo ci metterebbe assolutamente in difficoltà o in crisi organizzativa però poi da questo si invoda dentro l'ospedale un percorso al quale credo l'ospedale, soprattutto l'ospedale moderno debba sempre di più prepararsi. Voi avete visto come nei mesi passati l'esperienza del New Delhi, lo ricorderete, l'ospedale messo evidentemente in difficoltà, in tensione, il futuro dei grandi ospedali è questo, quelle malattie effettive che pensavamo un ricordo del passato un po' sono un ritorno grazie all'ascelerato uso degli antibiotici che abbiamo fatto sulle malattie batteriche d'altro i virus che sono questi grandi messaggeri evidentemente probabilmente nel tempo di variabilità genetica di quello che voi volete stanno diventando sempre di più aggressivi e soprattutto c'è nel tempo questa novità di virus che non conoscevamo e che neppure il nostro sistema immunitario conosce. Ci abitiamo a una battaglia con la quale evidentemente purtroppo credo che dovremmo abituarci, quindi questo che non sembra un esercizio diventerà poi proprio per mano e per pensiero del direttore sanitario del dottor Cusino un pensiero molto più strutturato. Quello che fa piacere è che già oggi è una continuità, non ci sono, è importante che ci siano perché si garantisce un pretriage, tende, c'è una struttura, c'è una continuità e una continuità di un percorso. È un ospedale che non si ridisegna semplicemente per un bisogno contingente, è un ospedale che capisce che questa sarà un'avventura e una sfida che purtroppo dovremo seguitare nel tempo. Iniziamola. Giusto per anche ampliare, ovviamente in considerazione del fatto che è mutato il quadro epidemiologico nazionale e purtroppo anche regionale, ci troviamo costretti a dover attuare delle ulteriori misure di prevenzione. Quindi queste consistono in alleggerire ovviamente il carico clinico assistenziale della struttura per cui necessariamente, e questo è stato anche oggetto di riunioni con l'università, stiamo valutando che tipo di frequenza far fare agli studenti. Ma la cosa più importante in questo momento è pensare ai nostri pazienti. Quindi noi continueremo ovviamente a garantire le urgenze ambulatoriali dei nostri pazienti, ma probabilmente differiremo un pochino il carico assistenziale per darci il tempo di poter fare le cose più serenamente perché noi abbiamo bisogno di serenità. Il nostro personale ha bisogno di prepararsi con calma, anche perché per curare questi pazienti, nel caso in cui effettivamente avessimo dei casi, abbiamo bisogno di tempo e di serenità per prepararci, studiare e curarli. Quindi determineremo successivamente anche un altro tipo di checkpoint all'ingresso dell'ospedale in modo tale da consigliare alle persone che eventualmente si rilevino all'ingresso con uno stato febbrile di ritornare semplicemente a casa, perché comunque in ospedale devono venire solo persone che ovviamente stanno molto male e che quindi devono accedere alle cure immediate, oppure i visitatori che comunque saranno contingentati, perché noi chiederemo che per ogni paziente possa venire solo un visitatore. Questo non lo diciamo perché vogliamo male alle persone, ma semplicemente perché gli chiediamo di aiutarci a poter curare in sicurezza i nostri pazienti. Le regole di buonsenso innanzitutto sono stare tranquilli, lavarsi le mani frequentemente, evitare di eventualmente frequentare i luoghi eccessivamente affollati, però noi siamo ad esempio all'aria aperta, quindi non corriamo dei rischi. È chiaro che se invece siamo in un ambiente chiuso possiamo prendere tranquillamente un raffreddore con una banale influenza, quindi se proprio vogliamo stare più tranquilli, passeggiamo all'aria aperta. Poi chiaramente se dobbiamo accedere alle strutture sanitarie, come vi ho detto, seguiamo le regole delle strutture sanitarie, quindi ci laviamo le mani quando entriamo, ci laviamo le mani quando usciamo. Abbiamo messo una guardia giurata all'ingresso del pronto soccorso perché chiunque voglia entrare, se ha saltato ovviamente il check-in, ritorni al check-in e poi si lavi le mani in quel punto dove c'è un dispenser apposito. Abbiamo messo tanti dispenser anche all'interno dell'ospedale apposta per aiutare le persone a lavarsi le mani, quindi lavarsi le mani. Poi quando si tossisce ovviamente, o si stanno tirci, coprirsi naso e bocca, possibilmente con un fazzoletto monouso, così come eventualmente in assenza di questo coprirsi con il gomito bocca e naso. Questi sono i primi consigli che possiamo dare. Sì, in conclusione oltre a ringraziare tutte le persone non ringraziate, ringrazio il mio assessore Francesca Polloni, ha fatto davvero un grande lavoro e l'università, perché ha ragione il dottor Busino quando dice che c'è stato un coordinamento molto forte, anche stamani ci siamo sentiti con il rettore Frati e anche ovviamente con l'Unistrasi, con tutte e due e anche con tutte le altre autorità, con il prefetto e con il signor Questore. Quindi diciamo che le istituzioni sono tutte insieme in maniera assolutamente plastica, diciamo, sotto questo profilo. Quello che vorrei raccomandare alla popolazione è di non farsi prendere dal panico. Questo è il primo dato. Non c'è bisogno di prendere d'assalto i supermercati, seguire le regole che sono già state dette meglio di me prima, però cerchiamo di vivere una vita normale. Ovviamente la vita di relazione ci può creare qualche preoccupazione più che problema. Cerchiamo di utilizzare tutte le cautele del caso, però viviamo anche la vita normale, facciamo le cose che facciamo sempre, con un minimo di criterio di discernimento, questo sì. Però niente allarmismi, niente razzismo e quindi viviamo questa città come è sempre stata, una civiltà. Voglio anche dire questo, questo è un'eccellenza. Noi chiediamo e chiederemo fortemente alla Regione Toscana di mantenere questa eccellenza, eventualmente di potenziarla, ma è già un'eccellenza assoluta di cui i cittadini senesi sono soddisfatti. Ma vogliamo che la Regione Toscana la consideri come tale e ne rispetti i servizi che dà tutti i giorni ai cittadini. Per il momento le attività universitarie continueranno regolarmente. L'unica precauzione che siamo costretti a prendere è quella di sospendere temporaneamente la frequenza dei reparti ospedalieri da parte degli studenti dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e delle professioni sanitarie. Questo provvedimento si giustifica con la necessità di indebolire, di abbassare la pressione delle persone nei diversi reparti perché i reparti sono pronti e concentrati e eventualmente dovesse arrivare un'emergenza e qualora arrivasse un'emergenza è meglio che tutto il personale sia concentrato a gestire l'eventuale emergenza. Quindi trattandosi anche di un momento in cui c'è un silenzio accademico per cui il semestre ricomincerà soltanto lunedì prossimo. Intanto per questa settimana sospendiamo la frequenza che è il momento più caldo, sospendiamo la frequenza ai reparti. Per tutto il resto le attività universitarie continuano regolarmente, gli studenti potranno frequentare il complesso dei dati o le biblioteche. Tra l'altro a disposizione abbiamo anche qui vicino il complesso dei dati di San Meniato che potrà essere lo spazio dove anche gli studenti di medicina potranno andare a studiare, anche a lavorare insieme nella preparazione dei loro esami. Ci aggiorniamo costantemente con gli altri rettori delle università toscane, a cominciare dal professor Cataldi dell'Università per stranieri e il professor Dei e il professor Mancarella dell'Università di Pisa. Siamo molto coordinati, cerchiamo di fare gli stessi passi tutti insieme e siamo coordinati anche con la regione toscana, il governatore, l'assessore Barni e ci siamo sentiti più volte in questi giorni anche con il ministro con il quale abbiamo condiviso la linea da seguire. Credo che abbiamo dato un bel esempio di coordinamento efficace sia sul piano strettamente universitario che più in generale sul piano che riguarda il coordinamento regionale e il coordinamento con il governo e con il nostro ministro.